Quando le tenebre oscurano la luce, quando credi di essere al sicuro, non credere mai di essere solo. Molti hanno tentato di fermarla, ma nessuno è sopravvissuto alla sua malvagità. Lei non appare dalle tenebre, lei è TENEBRA. Più letale di Freddy Krueger, più inquietante di Hit, più mascolina di Chuck Norris. Dal regista di Oh mio Dio scappa che mi sta inseguendo, e dall'aiuto macchinista di Oh mio Dio scappa che mi sta inseguendo 2. L'ultimo capolavoro del maestro Deodorante. Chalalla l'acqua, ciam ciam, e con la straordinaria partecipazione di Mirto nel ruolo di sua nonna. Betty, the beginning. Dal 30 febbraio nei migliori cinemi.